Bentornato, articolo 1, Movimento Democratico e Progressista. Bentornato a Pierluigi Bersani. Grazie. Allora, parleremo naturalmente del voto, di quando, di quando non votare, la manovra del sistema elettorale. Mi dice prima però, profondamente, cosa non la convince dei 5 Stelle, al fondo. Ma, sono portatore di tante esigenze, vere, importanti, ma non consegneranno la merce, perché fanno troppo da soli. Il problema è tutto qua. Invece l'Italia ha bisogno di movimenti, di partiti, mi auguro che via via i 5 Stelle diventino questi, che si carichi una responsabilità anche di condividere responsabilità, di non pensare di far tutto da soli, di non pensare di occhieggiare un po' di qui, un po' di là, secondo le convenienze, con qualche idea precisa. Insomma, bisogna essere partiti di governo per essere dei partiti oggi. E sul 5 Stelle c'è qualcosa che non è. Non consegneranno la merce. Uno che la merce la consegna e, a quanto pare, la vuole consegnare in fretta è Matteo Renzi, no? Che? Ma io per merce intendo i risultati, no? Perché lei non è convinto dell'idea di andare presto al voto? Ormai si è capito come stanno le cose. Perché secondo lei non bisogna votare in fretta? Ma io penso che chi è in governo, chi è in Parlamento, insomma, debba avere anche un po' di affetto per il Paese, un po' di senso di responsabilità, un minimo di generosità. Qui perché si vuole andare a votare subito invece che fra 5 mesi? Chi è fuori dal governo pensa di portare a casa un po' di voti. Chi è il governo non vuole affrontare le leggi di stabilità. Punto. Dopodiché si manderebbero fare le liste il 19 agosto in una situazione strabiliante che non ha precedenti e lasciando un punto interrogativo sulla stabilità economica e finanziaria del nostro Paese. Io trovo di un'irresponsabilità senza precedenti questa cosa. Dopodiché facciano come ritengono. Però c'è chi dice andiamo allora a votare talmente presto che arriviamo prima che si debba fare la manovra. La manovra la fa il governo nuovo. Posso raccontare a chi non conosce le cose perché con un sistema elettorale come quello che si annuncia e al di là del sistema elettorale con la situazione delle forze politiche reali di questo Paese qui immaginare che sia possibile 20-30 giorni dopo le elezioni 40 giorni dopo avere un governo in piedi abbastanza compatto per affrontare una finanziaria che non sarà semplice mi pare veramente una più illusione. Secondo lei come va a finire? Che ci sono tre gruppi più o meno della stessa grandezza? Io non riesco a dirlo anche perché se veramente andiamo a votare a settembre io consiglio ai sondaggisti di sospendere l'attività perché anche io mi autosospendo con la previsione. Ci hanno già spiegato le cose su degli elementi. No ma nel senso che immagino che ci sarà da qualche parte una sorpresa perché penso che gli elettori e i cittadini che vedranno svolgersi diciamo fra i secchielli di sabbia le vacanze estive presentazione delle liste una campagna elettorale dove la gente non avrà il tempo di vedere un confronto in una situazione dovremmo una legge probabilmente con 63% 65% di nominati e io credo che ci sarà dello sconcerto ecco come minimo insomma una legge fra l'altro che prima di capirla ci vuole del tempo e ti portano subito a votare ma lei chiede sempre tempo come prima quando c'era il congresso del PD dice serve più tempo adesso le elezioni serve più tempo non è che i tempi veloci della modernità la stanno tagliando un po' fuori la modernità ma i paesi normali vanno a votare quando è ora cioè sono moderni in Germania sono moderni negli Stati Uniti sono moderni non è che io non ho mai visto un paese moderno fare le liste in agosto ma che cambia? mi dice un paese moderno ma perché? perché fa caldo perché sono tutti in feglie ma insomma poi non è questo il problema si può fare anche per agosto il problema è che non puoi lasciare il paese con un punto interrogativo sopra non è possibile abbiamo il problema dell'equilibrio finanziario da rispondere all'Unione Europea abbiamo le banche abbiamo un sacco di questioni ora li vediamo uno per uno senta due alleati che forse si aspettava forse no due importanti figure del Partito Democratico Napolitano dice l'intesa dei quattro leader di partito è solo figlia della convenienza questi quattro che sarebbero Grillo Salvini Berlusconi e Renzi pensano solo alla propria convenienza Prodi ha detto ragazzi col proporzionale sfasciate il paese e va a finire che io mi trovo un'altra casa rispetto al PD la stessa cosa Enrico Letta pure la Bindi ha detto qua sta cambiando qualcosa si aspetta che cosa? premetto che noi articolo 1 MDP abbiamo perché carta canta qui se no se ne sentono di tutti noi abbiamo presentato emendamenti per un maggioritario di collegio collegi piccoli modello mattarella con simbolo programma e primarie per la coalizione previsti per legge ok la coalizione però bisogna volerla no ma sono stati bocciati quelli che dicono anche del PD eccetera che loro sono noi abbiamo presentato li hanno bocciati carta canta benissimo adesso arriva un sistema che vendono come tedesco cioè rispetto al tedesco ci sono due piccoli particolari uno è il voto disgiunto i tedeschi danno due voti sulla scheda noi ne diamo uno solo cioè uno al nome si trascina col nome si trascina tutto invece tu qua scegli quello del PD e ti porti appresso la lista del PD ma vedi non è tanto e già questa è un bella differenza ma la differenza più grossa che invece sembra una somiglianza con il tedesco è questa cosa delle liste bloccate perché qui risulterà che almeno il 63% del Parlamento sarà fatto di nominati dalle liste dice ma anche in Germania certamente anche in Germania è così col piccolo particolare che in Germania ci sono partiti finanziati dallo Stato che hanno 150 anni di vita che hanno delle norme di trasparenza e che hanno il compito precipuo di selezionare democraticamente classe e dirigente allora mi si dica mi si dica se in Italia è immaginabile una cosa no in Italia sono quattro persone che fanno l'elenco e gli elettori se lo bevono quindi continuo a ribadire io non non amo le preferenze sono per i collegi piccoli però per Baco almeno almeno diamo le preferenze almeno fatemi scrivere lei sa come nella lista quello che preferite lei ha individuato immagino come tanti osservatori verso dove vanno queste elezioni Matteo Renzi dirà o noi o Grillo fondamentalmente per cercare di lasciare Silvio Berlusconi come vaso di coccio in mezzo se lui è il vaso di coccio MDP addirittura cosa diventa pure Grillo ha detto MDP mantenimento delle poltroni cosa del genere sì sì poltroni MDP ha una grande forza nella proposta che farà dirà noi che siamo una forza di centro-sinistra plurale non andremo mai con la destra chiederemo un centro-sinistra discontinuo con le politiche degli ultimi tre anni mettendo in fila investimenti per il lavoro e diritti del lavoro sistema universalistico nella sanità progressività fiscale e diremo al PD PD ci sei? se non ci sei va dove ti porta il cuore ma no il PD le dirà non solo ci sono vada con Berlusconi ma sono l'unica opportunità di non avere Silvio Berlusconi Berlusconi perché se poi vi perdete in partiti piccoli sì partiti piccoli no no tanto con quella legge lì da solo non ci arriva nessuno né piccoli né grandi nessuno sarà abbastanza grande da far da sé quindi se ci danno forza il PD dovrà decidere se vuole fare un centro-sinistra discontinuo o se vuole andare con Berlusconi perché secondo lei ora sta pensando a quello andare con Berlusconi adesso non lo so però è la riflessione